Non potranno certo risalire a quattro vecchietti usciti dall'ospizio, no? Non è che vuoi ricarapinare una ban, eh? Ma io non so se riesco proprio a zumpare un po' di un bancone Mi spiace per voi, c'è poco o niente Io faccio la barbona La banda dei quattro ha fatto un'altra rapina